Ueeh, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi, finalmente da qualche ora è stata rilasciata la patch 9.4 in live. Ieri abbiamo visto veramente un sacco di cose e tantissime altre cose sono state scoperte nelle ore successive da parte dei leakers che riguardano ovviamente l'evento della season 9 e il termine di questa stagione per portarci poi alla season numero 10. Non vedevo l'ora perché era dal 4 giugno che non veniva rilasciata una patch su Fortnite. Nel video di oggi ragazzi vedremo alcune cose molto interessanti relative all'evento. Vi farò vedere anche una skin molto molto particolare. Abbiamo un gameplay ma anche alcune novità della patch che non abbiamo visto ieri mattina in live. Delle cose super interessanti che vi faranno capire un sacco di teorie. E ovviamente ragazzi un bel po' di leaks per tenervi sempre super aggiornati su tutto quello che succede nel dietro le quinte di Fortnite. Prima però volevo ringraziare di cuore tutti quelli che utilizzano il mio codice creator nello shop XIODERONE. Mi raccomando ragazzi non dimenticate di inserirlo quando scioppazzate di prepotenza. Iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima è la domandina ragazzi la domandina ve la devo fare mi rispondete sempre in tantissimi. Io vi voglio un sacco bene grazie per rispondermi alle domande. Quella di oggi è davvero interessante e anche ovvia. Ma te alla fine cosa ne pensi del robot? Cioè ragazzi da ieri mattina abbiamo visto il robot completo. A parer mio mi ha strabiliato il fatto che fosse colorato. Vi avevo già detto della testa e ci abbiamo preso perché effettivamente è una testa d'orso. Ma non mi aspettavo di certo che ci fosse questo cambiamento estetico estremo ragazzi. Come vedete ogni parte del corpo è relativa ad uno stile della skin. Singolarità i due piedi sono la pizza e il durburger. Le due braccia sono alla deriva e il rex. E la parte del torso con il backpack e la testa rosa il cuddle team leader. Come ti sembra? Fatemelo sapere ragazzi qua sotto nei commenti. Mi raccomando. Ma quindi... Ciao Giolevande! E bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il primo argomento di oggi che è appunto il robot ma non in quello che volete vedere voi. Lo abbiamo visto è meraviglioso ne abbiamo appena parlato ma nei file di gioco sono state inserite ovviamente altre cose relative all'evento che sembra essere molto molto chiaro adesso. Innanzitutto la prima cosa importante è il regalo, il segreto della season numero 9. Completando tutto il puzzle dei fortbyte ieri con il fortbyte numero 38 siamo riusciti a prenderne 100 ed ecco qua il regalo di Epic Games. Non è altro che una schermata di caricamento che ci mostra il nostro John C. Bunker che in realtà per tutta la season ci aveva già fatto capire che qualcosa sarebbe successo ed è proprio il combattimento tra il mostro e il robot ragazzi. Bellissimo questo schermata di caricamento. Fantastico che non ci siano più i fortbyte nella prossima season perché mi hanno... in una maniera incredibile. E qui... così no mi censurano il video. Come si dice ma andiamo avanti ragazzi ed ecco qua le cose un po' più interessanti. Durante l'evento del combattimento del Cattus contro il Dogus riceveremo tutti un jetpack con carburante infinito e tutti avremo 500 punti salute e 500 punti shield. Il che vuol dire che o dovremmo durante l'evento prepotentemente martellare il mostro o altrimenti potrebbe semplicemente essere qualcosa relativo ad una nuova LTM. Io non credo. Sono più propenso a pensare che li riceveremo durante l'evento. tra l'altro qualche giorno fa io vi avevo detto che qualche leakers aveva scoperto che probabilmente oltre a ricevere il jetpack sembrerebbe che tutti i chest in gioco dropperanno solo lanciarazzi leggendari e scar leggendari con munizioni infinite ragazzi. Credo di certo che non dovrebbero esserci i danni tra giocatori ma ovviamente staremo a vedere tutto quello che dovrà succedere perché ci sono anche tante altre cose relative all'evento come ad esempio questa emote ragazzi che è davvero molto simpatica non è altro che un emote dove si sceglie da che parte stare o dalla parte del mostro o dalla parte del robot. Voglio farvi vedere però ragazzi un video interessantissimo con oltre a questa emote mostrata anche una sorpresa. guardate una skin ancora non presentata nei file di gioco perché è ancora criptata. Siete pronti? Bababam! Barababababam! Non so che canzone sia. Comunque ragazzi guardate un po' lo facciamo andare lo facciamo andare skin del robot molto probabilmente disponibile o durante l'evento o in queste ore tanta tanta roba. Ecco qua ragazzi le emote di cui vi parlavo poco fa come vedete questo penso che sia a random credo che sia a random la prima era il cartello relativo appunto al robot qua c'è un'altra emote che hanno inserito hanno reinserito la default dance non so bene perché l'abbiano fatto ragazzi anche perché vedendola in game non sembra ci siano delle modifiche rispetto a quella che già conosciamo ed ecco qua il secondo cartello ragazzi hanno un pochettino rivisitato le emote che già conoscevamo dei cartelli però fa niente e c'è l'ultima cosa ecco qua il balletto ragazzi dedicato alla skin del robot come vedete pugno verso l'alto e tanta tanta roba anche per questa skin ci sono anche due standardi ragazzi che saranno disponibili lo standardo per chi vorrà stare dalla parte del mostro e lo standardo per chi invece vorrà stare dalla parte del robot insomma ragazzi un evento che io farò i live alle 20 insieme a voi inizieremo la live alle 19 e lo vivremo insieme ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento che non è altro che le overtime challenge come già due season a questa parte nei giorni che ci separeranno dal termine della season 9 all'inizio della season 10 arriveranno le classiche overtime challenge come vedete un sacco di stili personalizzati per determinate skin avremo uno stile per demi avremo uno stile per john c bunker avremo uno stile per il tizio niga che si chiama non mi ricordo il nome quello che c'ha lo zaino che si segna la tempesta in poche parole ragazzi tantissimi punti esperienza per tutti quelli che vorranno livellare un pochettino il proprio livello stagionale o anche per chi vuole chiudere il pass battaglia premio finale delle overtime challenge 15.000 V-Bucks inclusi tra i punti esperienza eh sì buonanotte 15.000 V-Bucks corro nudo in mezzo al prato no 15.000 punti esperienza ragazzi abbiamo anche altri tre regali che sono le tre schermate di caricamento quello della season 9 con tutte le skin quello relativo alla World Cup che in qualche modo voglio vorrò seguire insieme a voi adesso cercherò il modo di farla ragazzi e l'ultima che l'ho passata e non me la ricordo che è quella invece relativa al testone del robot che abbiamo visto anche questa mattina nei leaks e chiudiamo ragazzi con l'ultimo argomento di oggi che è finalmente la possibilità di ottenere questa skin il pack della skin punto di rottura riccato già da un mesetto abbondante è già disponibile in Scandinavia al prezzo di 15,90 non so non che cavolo di monete abbiano loro la Scandinavia è nell'Unione Europea non me ne frega un ca e come si dice comunque sappiamo che costerà ragazzi 9,99 euro diciamo 10 euro il pack che però ci ridarrà 1000 V-Bucks quindi ragazzi in teoria io vi consiglio di prenderlo anche perché ridandoci i 1000 V-Bucks con le challenge che non sono altro che le sfide giornaliere del personaggio potremmo praticamente non spendere nulla per ottenerlo ragazzi le notizie sarebbero davvero ancora tantissime ma il tempo è scaduto io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando iscrivetevi al canale un bel pollicione in su noi ci vediamo alle 8 in live ciao 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 ciao